La Dimsitere d'Amore in Abruzzo sbarca a Milano in occasione della fiera dell'artigianato che quest'anno ha raggiunto il record delle presenze, 2 milioni di visitatori contro un milione e mezzo dello scorso anno. In una settimana sul muro e l'Abruzzo hanno portato le loro eccellenze fuori regione. Una ventina di artigiani e produttori che hanno preso parte alla prestigiosa Kermess ospitando all'interno dello stand assegnato dalla Dimsitere d'Amore in Abruzzo un ristoratore di amatrice con l'amatriciana solidale. Un bilancio positivo sui numeri e sull'aver fatto rete fanno notare dalla Dimsitere d'Amore che ripropone una visione diversa del turismo concepito come industria su scala nazionale. La fiera ha garantito di fatto una continuità rispetto all'Expo e sul muro nel territorio ancora una volta sono stati presenti grazie alla lungimiranza e all'interesse della destinazione turistica.